ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono francesca scusatemi per la voce un po soffocata ma mi sono leggermente raffreddata allora nel video di oggi vorrei farvi vedere la mia idea di look da giorno che si trasforma in look da sera quindi quello che faccio io quando mi trucco leggera per una giornata fuori e poi magari devo uscire anche la sera ma non ho voglia o non ho tempo di stare a cancellare e rifare tutto quindi proprio come vado a trasformare quello che era il mio look da giorno in un look più serale quindi se siete curiosi di vedere questo video se vi può interessare essere utile mi raccomando continuate pure a guardarlo ma prima iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina così vi arriveranno le notifiche quando pubblicherò dei nuovi video e perché no se vi va seguitemi anche sul mio profilo di instagram dove carico foto storie sondaggi e anche dei makeup haul come vedete ho già la base fatta perché volevo concentrare l'attenzione di questo video su quello che è il look degli occhi e anche delle labbra perché vi farò vedere quello che è un mio piccolissimo trucchetto io di solito però come sapete se mi seguite da un po tendo a realizzare prima la base e successivamente gli occhi chiaro è che comunque quando vogliamo trasformare un look da giorno in un look da sera molto probabilmente ci sarà già la base realizzata quello che utilizzo sempre quando voglio realizzare un look occhi è il primer perché ho la palpebra oleosa probabilmente lo percepirete anche voi in videocamera ho voluto proprio filmare anche questa parte per farvi vedere insomma la lucidità che ho e quindi chiaramente per me applicare un primer è essenziale perché altrimenti gli ombretti non resisterebbero si scioglierebbero e andrebbero in giro in giro dappertutto ovviamente vedete voi se è essenziale anche per voi applicarlo oppure no io ne uso due lo so è un po eccessivo ma vi spiego perché utilizzo il primer potion di urban decay che adoro perché riesce appunto a tenere a bada quella che è la lucidità oleosità della mia palpebra questo qui che possiedo io è il primer originale la versione originale che non è colorata e invece avendo io la palpebra un po scura mi piace andare a applicare andare a correggere coprire quelle che sono le venuzze le parti più scure della palpebra e quindi vado con la piluise che è molto coprente quindi va a coprire tutto quanto alla perfezione ma non riesce a gestire l'oleosità della mia palpebra li uso in maniera combinata in modo da renderli perfettamente complementari quindi vado prima con il primer potion questo lo spalmo senza problemi con le dita perché appunto come vedete è trasparente e ora appunto vado con la piluise mi è venuto in mente di fare questo video perché a me è capitato tantissime volte di dovermi o volermi truccare per una giornata fuori e poi scoprire all'ultimo di una cena alla quale dovevo partecipare magari mi ero dimenticata o appunto un'organizzazione che si fa all'ultimo improvvisata e non avere tempo o voglia di stare a rifare tutto il make up quindi secondo me come capita a me sarà capitato di sicuro anche a voi un sacco di volte e niente quindi l'ho trovata insomma un'idea molto interessante e utile io andrò ad utilizzare una palette che non si riesce a diciamo reperire con estrema facilità ma che secondo me per queste occasioni è perfetta sto parlando della tati beauty palette la neutrals volume 1 che appunto bisogna per forza acquistare dal sito di tati beauty quindi il sito americano però insomma se vi interessava secondo me ne vale la pena io la sfrutto sempre tantissimo perché appunto a tutti questi colori neutri qui avete anche un viola questa linea appunto che si chiama non mi ricordo mai ora che contiene questa tonalità champagne diciamo e niente io la trovo davvero perfetta perché vi permette appunto di creare quello che è un look più da giorno ma poi riuscire a trasformarlo con tonalità più scure in un look serale in più avete anche questi glitter che secondo me per la sera sono perfetti quello che faccio io quando voglio creare un look da giorno è andare ad intensificare un pochino l'angolo esterno dell'occhio ma con una tonalità di transizione quindi non troppo chiara non troppo scura se voi non avete una palette di questo tipo questo look da giorno si può realizzare semplicemente con un po di bronzer nella piega e illuminante sulla palpebra avendo però la palette vi faccio vedere quello che realmente faccio io vado a prendere su su matt quindi l'opaco inclinando un po la testa all'indietro lo vado ad applicare nella piega avendo la p louise che bella appiccicosa prima lo tampono e poi lo sfumo con movimenti circolari quando devo fare una cosa molto veloce vado proprio nell'angolo esterno illuminante al centro e via quando invece ho un pochino più di tempo mi piace fare l'hello high perché sul mio occhio mi piace in maniera particolare quindi appunto una volta fatto questo fatto l'angolo esterno che porto proprio verso la fine del sopracciglio vado con tocchi molto leggeri qui all'interno inclino sempre la testa in modo da non sporcare la palpebra mobile vedete e concentrarmi appunto qui fatto questo porto un po di sus opaco proprio diciamo nella nell'angolo più interno della palpebra mobile ok fatto questo riprendo sempre la stessa shade quindi sus opaco e lo applico nella rima ciliare inferiore ok quindi abbiamo applicato il colore opaco sull'angolo esterno la zona interna e sotto la rima ciliare inferiore ora vado a prendere ora metallic e con un pennellino a lingua di gatto lo vado ad applicare al centro della palpebra e nell'angolo interno porto anche un po verso l'alto ok e questo è il mio look da giorno vado ad applicare il mascara così poi possiamo andare a trasformarlo mentre il mascara si asciuga vi faccio vedere come applico io il rossetto allora generalmente quando esco per una passeggiata comunque durante la giornata prediligo rossetti nude abbastanza chiari comunque non vado con marroni rossi mi tengo sul nude il che è perfetto perché il nude ovviamente va bene sia per un look da giorno che per un look da sera il mio rossetto preferito che quindi utilizzo di più in assoluto è il rossetto matte revolution pillow talk di charlotte tilbury allora mi piace tantissimo la formulazione di questi rossetti perché sono opachi ma estremamente confortevoli anche quando le applicate scorrono in una maniera incredibile ovviamente essendo un rossetto in in bullet non rimane sulle labbra come una tinta è come un rossetto liquido per così tante ore tende durante il tempo durante il trascorrere delle ore tendono ad andare un pochino via la cosa che mi piace di questo rossetto qua che si va via sfuma ma lascia sempre diciamo una tinta molto uniforme lo vedete che perde di intensità ma comunque non vi lascerà mai dei buchi bianchi sarà sempre uniforme la colorazione però pillow talk che è un nude rosato sulla mia carnagione applicato proprio così direttamente dal bullet tende ad essere un pochino troppo scura su di me è un nude abbastanza intenso ovviamente per quella che la mia carnagione quindi durante il giorno quando voglio giusto un velo di colore vado con il dito a prelevare il rossetto e lo tampono sulle labbra in questo modo avrò comunque il colore ma non così intenso e comunque con un effetto molto naturale perché non vado a definire quelli che sono i bordi delle labbra questa è la mia proposta del look da giorno direi che possiamo andare a trasformarlo in look da sera quindi ipotizzando che abbiamo tempo per tornare a casa e darci una sistemata quello che faccio io è prendere un pennellino così a penna quindi piccolino e a punta e andare a prendere il marrone scuro in questo caso di questa palette è ritual matt e semplicemente vado ad intensificare quello che già lei lo hai che ho fatto magari la mattina stessa quindi appunto vado con il colore scuro e lo applico nell'angolo esterno sopra praticamente a sud e mi fermo nella piega cioè non vado più in alto in questo modo rimarrà visibile sud opaco come colore di transizione e semplicemente si aggiungerà il marrone scuro io lo porto un pochino più in alto perché ho un po di ciccia cadente e quindi se voglio farlo vedere devo inevitabilmente farlo salire un pochino bene ora con molta cautela che non voglio esagerare lo vado ad applicare anche nell'angolo interno c'è anche chi intensifica l'angolo interno tanto quanto l'angolo esterno io tendo a lasciare invece l'angolo interno un pochino più leggero rispetto a quello esterno perché altrimenti non lo so mi si incubisce troppo lo sguardo io vado con il marrone scuro perché lo preferisco io ma ovviamente si può andare anche con il nero e ottenere un risultato molto più importante sin da subito ma a me il nero un po spaventa quindi vado con il marrone tra l'altro questo è il look che ho fatto proprio ieri sti era per uscire cioè già vedete no la differenza lo vado ad applicare anche sotto il marrone poi ovviamente dopo lo andiamo a sfumare e praticamente replico ciò che ho sulla palpebra superiore anche sulla rimacigliare inferiore quindi il marrone angolo esterno angolo interno e lascio comunque intravedere south al di sotto ho sfumato il marrone scuro con un pennellino da sfumatura sempre denso ma più stretto riprendendo south sia per sfumare i due colori insieme creare una sfumatura un pochino più omogenea e sia per ritornare ad intensificare comunque il colore di transizione vedete come si sono sfumati bene l'uno con l'altro qui non mi è venuto perfetto ma già da questo lato lo preferisco abbiamo ancora ora sulla palpebra quindi o torniamo ad applicare appunto il colore metallico oppure possiamo andare direttamente quello che faccio io con i glitter li prelevo direttamente con il dito e li vado ad applicare proprio sopra ora metallic in una maniera un pochino sparsa li ho applicati un pochino quelli rimasti sul dito anche sull'angolo interno potete andare a creare una linea di eyeliner io lo lascio così perché secondo me comunque va bene lo stesso passerei quindi al rossetto che avevamo lasciato molto desaturato io lo andrei a prendere e ad applicare direttamente dal tubetto in modo da avere la pigmentazione l'intensità piena questo invece è il il look appunto serale trasformato da giorno a sera ovviamente il fatto di aver messo un ombretto più scuro e soprattutto di aver aggiunto i glitter e secondo me è questo che fa la differenza sono queste cose che rendono un look appunto un po più serale ultimo tocco che è essenziale il profumo io quello che faccio di solito è sempre avere un tester di profumo all'interno della mia borsa quando riesco il più delle volte mi porto la versione mini del profumo che uso io di solito altrimenti se ad esempio la mattina mi sono dimenticata di mettermi il profumo comunque so che all'interno della borsa ho un tester che posso sempre utilizzare e quale migliore occasione se non questa per farvi vedere il tester di un profumo che mi è arrivato proprio stamattina e sto parlando del nuovo profumo di Givenchy allora vi racconto la storia di questo tester che come vedete è in un bellissimo pacchetto praticamente stavo guardando tempo fa ormai le storie di Giulia Valentina dove aveva dove presentava questa sua collaborazione con Givenchy e praticamente in occasione dell'uscita del loro nuovo profumo iscrivendosi alla newsletter o comunque a una pagina che Giulia Valentina aveva lasciato in swipe up il brand inviava gratuitamente a casa di ogni persona che si era iscritta il tester del nuovo profumo io sinceramente non ci speravo più perché sono passate secondo me due o tre settimane da quando mi sono iscritta però finalmente è arrivato quindi apriamolo insieme e vediamo com'è questo profumo all'interno del pacchetto c'è un bigliettino firmato Giulia Valentina dove ha scritto stop and smell the roses è molto bello quindi fermati e annusa le rose tra l'altro io adoro le rose e il profumo che uso sempre io è proprio a base di rose quindi direi grandioso questo è il fogliettino del profumo una fragranza delicata e impertinente con una spontaneità contagiosa e una naturalezza disarmante nel cuore una rosa effervescente quindi mi piace riflette il carattere di una donna libera inconsapevolmente sensuale naturalmente irresistibile ok direi che come descrizione è perfetto questo appunto è il tester direi di provarlo è molto buono sa di rosa però ad esempio quello che uso sempre io che è completamente a base di rosa ha un'intensità completamente diversa questo ha anche una dolcezza effettivamente all'interno che si sente senza difficoltà quindi sì cioè tendo a sentire di però dolcezza che non la rosa però in ogni caso si sente mi piace molto come profumo davvero ottimo quindi grazie a Givenchy e grazie a Giulia e Valentina che mi hai permesso di ricevere questo tester gratuitamente quindi bene ragazzi direi che ci siamo abbiamo realizzato il nostro look da giorno molto fresco molto luminoso l'abbiamo trasformato in look da sera sempre sullo stesso genere ma molto più intenso con queste labbra belle evidenti ci siamo anche spruzzate questa nuova fragranza molto buona quindi siamo più che perfette e pronte per uscire per la nostra serata io spero tanto che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile vi abbia intrattenuto tutto 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 quanto spero che possa avervi tenuto compagnia io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao